Ciò che è impossibile per l'uomo, io l'ho reso possibile. Ciò che la nostra debolezza non può eseguire, noi lo compiamo attraverso Cristo, nostro Signore. Lo Spirito Santo ti ammanisce, dà l'Altissimo a seconda di quel che Egli ha dato a te. Ma come possiamo fare ciò? Ringraziando Dio e il Padre per mezzo di Cristo e rendendo sempre grazie per ogni cosa nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Nella Messa Cristo si offre con gli stessi sentimenti, infinitamente perfetti, la sua vita e la sua passione, nell'ultima cena e sul Calvario. Questo dono di ringraziamento che Egli offre al suo Padre Celeste, in cambio di tutti i benefici elargiti al genere romano, è il medesimo dell'obelazione divina sulla croce, ossia il suo nobilissimo corpo e il suo preziosissimo sangue. Di conseguenza la Messa è un sacrificio di ringraziamenti infinitamente meritorio e gradito, perfettamente commisurato a tutti i benefici di Dio, con cui il cielo e la terra sono colmati. Cristo offre il sacrificio eucaristico per noi, cioè in modo che Gli possa, al posto nostro, ringraziare Dio e provvedere all'insufficienza della nostra gratitudine. Con Lui e per Lui offriamo anche il sacrificio di ringraziamento, perché Egli ce l'ha lasciato in eredità come nostra proprietà. Attraverso Cristo e il suo sacrificio eucaristico ci siamo così arricchiti che siamo capaci di presentare al Padre Celeste un dono indicibilmente glorioso e sublime, come un degno ringraziamento per ogni dono buono e perfetto che riceviamo dalla sua mano. Da noi stessi, infatti, non possiamo rendere grazie adeguatamente anche per il minimo beneficio, ma con il santo sacrificio della Messa siamo in grado di soddisfare pienamente il nostro debito di gratitudine, anche se fosse infinito. All'altare possiamo ringraziare in modo equo e degno il Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione, in quanto possiamo prendere il calice dalla salvezza e lodare il suo nome divino. Nelle preghiere liturgiche e negli inni con i quali la Chiesa accompagna il santo sacrificio si esprime in modo eccellente lo spirito di più sincera gratitudine e di più elevato ringraziamento. Gli stessi sentimenti dovrebbero riempire i nostri cuori anche durante la celebrazione della Santa Messa. Nel suo amato Figlio il Padre Celeste ci ha dato ogni cosa. Noi dovremmo rendere tutto a Lui offrendogli in ringraziamento nella Santa Messa il suo divin Figlio nel quale Egli si è compiaciuto. La preghiera di ringraziamento è una ricca fonte di nuovi doni. Vi ricorderò delle tenere misericordie del Signore, della rote del Signore per tutte le cose che il Signore ha largito su di noi e per tutta la moltitudine delle sue buone cose alla casa di Israele, la Chiesa, che Egli ha dato loro secondo la sua bontà e secondo la moltitudine delle sue misericordie.